Questa tornata ha avuto qualche difficoltà in provincia di Varese, anche a Legnano, non c'è la brillantezza delle ultime tornate, c'è qualcosa da registrare al di là di queste divisioni? Secondo me è questione principalmente di candidati, noi 5 anni fa vinciamo col 50%, 10 anni fa l'Ulino ha vinto col 50%, è questione di candidati, se non ci sono dei candidati vincenti paga tutta la coalizione.